benvenuti e buon pomeriggio a tutti quelli che si stanno connettendo a distanza e prima di passare la parola a voi perché siete veramente i protagonisti di questa giornata volevo giusto dire un paio di parole introduttive intanto presentarmi perché ho chiesto a tutti voi le vostre biografie e le vostre storie ma temo di non essermi presentata sono una curatrice presso la National Portrait Gallery di Londra dove mi occupo di un progetto triennale dedicato ad incentivare la presenza delle donne nelle collezioni del museo per darvi un'idea allo stato dei fatti nella collezione ci sono 58 mila tra artisti e figure storiche di sesso maschile e solo 26 mila di sesso femminile quindi vi dà un'idea della disparità di genere e del tipo di progetto prima di coprire questo incarico ho lavorato per svariati anni a Tate Modern come curatrice prima al Guggenheim ho anche insegnato all'università UCL a Londra e continuo a curare mostre per conto di varie istituzioni museali in giro per il mondo inclusa di New York e Macva a Barcellona. Ora basta parlare di me e passo un attimo al tema del panel prima di passare la parola ad Adele Maresca Compagna che vedo che si è unita a noi. in un periodo storico come quello che stiamo vivendo che è stato fortemente segnato dalla chiusura e dal contingentamento dell'accesso al pubblico dei musei il tema dell'inclusività dei musei assume, penso possiamo tutti concordare, un significato nuovo. I mesi passati ci hanno portato a considerare in maniera nuova la realtà dei musei oltre le loro mura e a contemplare un nuovo spazio digitale. In un certo senso penso si possa dire che siamo stati catapultati nel futuro in maniera abbastanza repentina. Cioè nonostante i musei di tutto il mondo hanno prontamente reagito creando nuovi strumenti di fruizione e si sono interrogati su come sviluppare relazioni durature con i pubblici già esistenti ma anche come porgiare e intessere delle nuove relazioni con pubblici che fino ad allora sono stati distanti. Di default sono stati molti casi in cui i contenuti stessi e l'accesso ai musei sono diventati più accessibili e si può dire fisicamente meno distanti. Lo scopo di questo panel, come tutti i partecipanti già sanno, è di rappresentare un momento di confronto sulle strategie e sugli strumenti di audience analysis, audience engagement, development, fundraising, il rapporto tra il pubblico e il privato e diciamo questa aspirazione a diversificare i nuovi pubblici. Naturalmente oggi avremo vari punti di vista e spero molteplici risposte e avremo alla fine penso anche un ventaglio di possibili strategie. Questa è la mia breve introduzione e direi ora di passare ad Adele, maresca compagna, presidente dell'ICOM Italia che andrò a presentare brevemente. È la presidente dell'ICOM Italia dal 2019, in passato è stata vicepresidente della stessa organizzazione dal 2013 al 2019, dal 1982 al 2014 è stato capo della ricerca e delle pubblicazioni del MIPACT e si è occupata tramite studi e volumi e qui diciamo c'è una bibliografia molto vasta di temi quale il cultural heritage, European market, quindi ha trattato molti temi. Ora passo la parola alla dottoressa, vediamo se funziona. Buongiorno, buon pomeriggio, ringrazio gli organizzatori per aver voluto includere la voce di ICOM in questo interessante panel e su questi temi così interessanti e appassionanti. Prima di entrarmi un po' nella materia e ricordare quali sono state le azioni di ICOM in questo settore vorrei evocare a grandi linee qual è la visione attuale della moderna museologia e quindi anche il contesto ideale in cui si muovono oggi professionisti museali. Il concetto stesso di patrimonio culturale è mutato nel tempo, a partire dagli anni 70, dalla conferenza di Santiago del Cile, dalla conferenza generale ICOM di Grenoble del 71 e si è passati, adesso semplificherò, considerato nello scarso tempo a disposizione, si è passati dalla concezione di beni culturali a quelle di testimonianze materiali e immateriali dell'umanità fino all'eredità condivisa evocata dalla concezione di Faro, a cui oggi facciamo tutti riferimento e il patrimonio quindi non è più soltanto quello che è stato codificato dalle norme, dalle normative che è stato individuato dalle istituzioni pubbliche, ma è quello che viene riconosciuto come tale dagli individui e dalle comunità patrimoniali, che però in questo modo vengono a condividere ad essere corresponsabili anche della sua rigenerazione, della sua conservazione, della sua trasmissione alle generazioni future. Tutto questo, voi lo sapete bene, ma era soltanto per rilevare che è in atto un vero e proprio cambio di mentalità anche in coloro che dirigono o operano nelle istituzioni museali. Noi diciamo da tempo che l'attenzione si è spostata dalle cose alle persone, dalle collezioni al pubblico, anzi ai diversi pubblici e quindi nelle politiche, negli obiettivi dei musei troviamo sempre più forti le esigenze di promozione, di valorizzazione, di compartecipazione. Ora, questo significa anche che, per ritornare al tema di oggi, che il compito di chi deve attirare il pubblico, raccontare i significati e i valori delle opere e delle collezioni è molto più arduo che nel passato. Non è più sufficiente soltanto far conoscere le caratteristiche artistiche, tecniche, storiche delle opere dei grandi artisti con lo sguardo degli esperti, degli addetti ai lavori, dei competenti, dei conoscitori della materia, ma occorre anche intercettare lo sguardo dell'altro, di chi visita i musei e di chi resta fuori dai musei per svariati motivi, di cui anche proveremo velocemente a parlare, e quindi dialogare con diverse visioni e interpretazioni di quello che per noi è quasi tradizionalmente considerato un patrimonio di tutti, ma che va appunto reinterpretato anche sulla base della visione degli altri. Quindi al museo contemporaneo abbiamo visto anche dall'acceso dibattito che c'è stato anche all'interno di ICOM sulla definizione di museo a Kyoto nel 2019, che prosegue ancora e i cui esiti sono ancora molto indefiniti e incerti, al museo si chiede molto di più, al museo ha accentuato il suo ruolo sociale, adesso si chiede di essere promotore di sviluppo sostenibile, diffusore di valori di cittadinanza attiva e di democrazia, favorendo il dialogo tra le diverse culture, incidendo sul benessere e sulla coesione sociale delle popolazioni, oltre che sulla crescita economica dei territori. E' appena il caso di dire che anche la Commissione di Faro insiste anche su questo, cioè che il patrimonio è anche una risorsa oltre che un valore, una risorsa per tutti. Dunque, ICOM a livello internazionale ha sempre svolto un ruolo attivo per promuovere una maggiore partecipazione, la più estesa accessibilità e l'inclusività. Ricordo anche proprio di sfuggita le raccomandazioni UNESCO del 1960 sui metodi più efficaci per rendere i musei accessibili a tutti e si vede già dal titolo quanto fosse innovatore quel messaggio. E anche la raccomandazione UNESCO del 2015 sulla protezione e protezione dei musei, la loro diversità e il loro ruolo nella società. Queste raccomandazioni sono state elaborate e scritte con un grandissimo apporto di ICOM a livello internazionale. Ma ICOM è intervenuta anche su temi molto più complessi, direi, tra virgolette politici, in particolare per combattere discriminazioni di genere, di razza, di condizioni economiche e sociali. E qui accennerò appena, mi dispiace di non potervi mostrare le slides, ma alcune campagne di sensibilizzazione. Ad esempio, come ricordava la nostra coordinazione sul ruolo delle donne, sotto un duplice aspetto, da una parte la presenza delle donne nelle organizzazioni dei musei e delle politiche culturali, dall'altra la rappresentazione dell'universo femminile nelle collezioni e nel racconto che ne fa il museo. E poi ICOM ha preso posizione per dire anche sui recenti conflitti americani, sulle discriminazioni razziali, Black Matters e via di seguito. Ma in particolare io vorrei ricordare che nel 2020 ha dedicato l'International Museums Day, vale a dire questa giornata dei musei che ogni ogni anno è dedicato, il 18 maggio, a un tema specifico. Quest'anno lo ha dedicato al tema Museums for Equality, Diversity and Inclusion. Questo per richiare l'attenzione dei musei sulle azioni da mettere in atto per superare stereotipi e pregiudizi, per contrastare fenomeni di marginazione e mettere a punto iniziative di outreach per raggiungere dei pubblici che altrimenti con difficoltà possono raggiungere il museo e partecipare più in generale alla vita culturale. Pensiamo ad esempio ai detenuti. Nonché sviluppare valori pluralisti e democratici costruendo narrazioni condivise e rappresentative. Il Comitale al suo interno ha due commissioni che seguono, sia pure con angolazioni diverse, le problematiche legate all'accesso al patrimonio culturale. Una è la commissione accessibilità, l'altra è la commissione tematica educazione e mediazione che fa capo a quel comitato internazionale che si chiama SECA, che è un comitato per l'educazione e l'azione culturale. Dopo aver negli anni scorsi affrontato in alcuni giornate di studio, seminari, temi prima della mediazione, i limiti della mediazione e le professioni ad essa dedicate a Firenze nel novembre 2017, tra l'altro sono stati pubblicati anche gli atti, quindi se volete potete vederli. Un'altra è stata dedicata a Torino nel 2018 all'audience development, a tutti gli strumenti per favorire la partecipazione. Ma quest'anno ha inteso approfondire anche, appunto in occasione della giornata dei musei, pur essendo impossibilitata per il Covid a organizzare iniziative in presenza in diverse sedie, in diversi musei, ha voluto comunque lanciare questo messaggio ai professionisti dei musei, organizzando un convegno online che ha esaminato appunto le questioni legate alle pari opportunità, in questo senso di interpretare quality, cioè le stesse opportunità di accesso al museo e alla comprensione dei valori del museo, concessi a coloro che sono spesso considerati diversi o per orientamento sessuale o per razza, cultura, religione, lingua o che vivono ai margini della società in situazioni di povertà educativa, di difficoltà economica. Quindi è stato proposto in questo convegno una serie di riflessioni, linee guida e buone pratiche per superare i pregiudizi e ridurre le barriere che frenano e impediscono l'accesso. Sotto la regia, con il coordinamento di Silvia Mascheroni, hanno preso parte a questo convegno dei professionisti Maria Chiara Ciaccheri, Simona Bodo, Francesco Mannino, la Giovanna Brambilla, che hanno affrontato le diverse tematiche, mettendo in rilievo anche qual è la complessità e quali sono le difficoltà nell'affrontare questi temi, richiamando sempre l'esigenza di confrontarsi con coloro i quali si sentono diversi o emarginati, cioè non facendo mai calare dall'alto delle iniziative pensate anche in buona fede a favore. Penso che il tempo sta per scadere, volevo soltanto dire che questo convegno sarà seguito da altre occasioni, che il convegno è stato registrato, quindi sulla pagina ICOM di YouTube trovate tutti gli interventi, e comunque noi pensiamo di dar seguito a questa iniziativa con altre occasioni di confronto e anche per verificare insieme quali sono degli esempi positivi, adesso ricordo appena, voglio appena ricordare, quelli condotti a Brera o agli uffizi di Firenze insieme con patrimonio di storie e insieme con questa risorsa veramente molto importante che è stata messa in atto dalla fondazione ISMU, iniziativi e studi sulla multietnicità, che si dedica da anni allo studio alla promozione del patrimonio culturale come una nuova frontiera per l'integrazione, che ha costituito un sito ad hoc in cui funge da osservatorio, cioè in cui sono raccolte tutte le esperienze positive del territorio, ma si pone anche come partner, come sbiancheggiatore di iniziative che si vogliano realizzare sul territorio. Io credo che debbo fermarmi, se per caso ci sono possibilità di repliche successive interverrò. La ringrazio dottoressa per questo intervento e sicuramente ci sarà un momento in cui possiamo confrontarci, anche perché quella è parte dell'obiettivo della giornata. Mi dispiace per le difficoltà tecniche e soprattutto di non averla aiutata di più. Ora passiamo al dottor Remo Tagliacozzo, che penso sia con noi, penso mi risulta di sì, che come prima passerò ad introdurre brevemente e poi passo la parola a lui. Remo Tagliacozzo è l'amministratore unico di Zetema Progetto Cultura fino al 2017 e ha ricoperto vari incarichi importanti all'interno del Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali e come responsabile affari legali, societari e corporate governance e segretario del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci. Ha sviluppato il suo percorso professionale anche in contesti multinazionali, prima in Shared Medical System Italia e poi per la divisione Health Service di Siemens. Dal 2017 a dicembre 2019 è stato amministratore delegato di Zetema Progetto Cultura, data in cui poi viene nominato amministratore unico, incarico che ricopre, come dicevo, ancora oggi, guidando la società, partecipata al 100% da Roma Capitale, che gestisce attività e servizi culturali e turistici, organizzazione di eventi culturali, attività di progettazione, manutenzione, conservazione, catalogazione per conto della sovrintendenza comunale, la rete dei musei civici, diversi spazi cittadini dedicati allo spettacolo, alla cultura e all'accoglienza turistica. Quindi come si può dedurre un grande progetto, di cui sicuramente ci parlerà, quindi passerei la parola a lui. Vedo che Remo dice che c'è ma non si vede. Vediamo che non sia più online. Magari nel mentre, mentre aspettiamo, c'è una modalità con una manina, sempre a lato, lì nella barra degli strumenti. Se qualcuno vorrebbe intanto rispondere alla dottoressa che ci ha appena fatto l'intervento su ICOM Italia, questo potrebbe essere un momento per una discussione iniziale. Se non c'è nessun altro, magari io faccio una domanda. Anche una domanda molto semplice. Mi chiedevo, rispetto a quest'evento che avete organizzato a maggio, questo convegno, qual è stata la cosa che forse l'ha sorpresa di più, quella che ritiene che è un'innovazione che vorrebbe veramente veder portare avanti nel contesto museologico, che sia nazionale, internazionale, che veramente l'ha fatta pensare in modo propositivo. Le ripasso la parola. Grazie. Sorpreso perché, confesso, non mi ero mai posta in quell'ottica, in quella dimensione, quella di Nicole Molluisen a proposito degli orientamenti sessuali dei visitatori. Quello è un aspetto che io non avevo mai preso adeguatamente in considerazione. Quello che naturalmente mi ha molto colpito è l'intervento di Giovanna Brambilla, invece, sulle iniziative che la GAMEC di Bergamo conduce con il carcere. Mi ha molto colpito anche, per questo anche vi invito, se avete tempo e voglia, a seguire, a recuperare questo dibattito, perché è molto scevro da retorica e da trionfalismi. Cioè, lei mette in evidenza tutte le difficoltà di questi percorsi. e anche, la cosa che mi ha colpito, quasi invita a non porsi in una posizione emotiva troppo forte su queste, intraprendendo queste azioni, quindi di mantenere una certa razionalità. Ora, queste iniziative non sono, ce ne sono alcune in Italia, però, devo dire, lei ha lavorato sui detenuti adulti, in alcuni casi si lavora invece con le case circondariali, insomma, con i giovani approcci da, per esempio, si è lavorato. Quindi, le modalità possono essere varie, diverse, eccetera. Queste iniziative potrebbero essere alimentate. Così come sono, insomma, diciamo che tutti questi interventi sono stati molto interessanti e il primo, quello di Maria Chiara Ciaccherici, è anche reso evidente, cosa che pure, forse, a cui non tutti pensiamo, che diciamo che la discriminazione, il pregiudizio risale a monte nel momento in cui vengono scelte le opere da esporre e nel momento in cui tutti gli apparati, dalle drascalie, quindi, come sappiamo, contano anche le mancanze in un'esposizione temporanea, così come una mostra. quello che non c'è, quello che è stato trascurato, gli aspetti dell'arte, ma della cultura, appunto, e della rappresentazione dei diversi componenti della società che sono state oscurate per motivi diversi politici o semplicemente per mancanza di consapevolezza. Esatto, molto più a fondo. Nel mentre vedo che il dottor Tagliacozzo è tra di noi, quindi passo la parola immediatamente a lui. Parliamo di circa l'11,5% dei musei statali, quindi, in qualche modo, rientrandoci anche quelli pubblici, tutti quanti, ci siamo, insomma, su una scarsissima digitalizzazione, quindi una scarsa propensione a erogare i servizi in maniera diversa. Come mi è già capitato di dire questa cosa, soprattutto per i rifini esteti, so che non è una cosa che può essere facilmente, diciamo, digeribile, ma dobbiamo comunque prendere la consapevolezza che la musealizzazione attuale, comunque anche rispetto ad altri, ha un livello, diciamo, di coinvolgimento, anche a livello emotivo, di storytelling nettamente inferiore a quella di altri. E credo che questo possa essere ascrivibile maggiormente a troppe cose. molti paesi, a differenza dei nostri, che vengono citati come grandissimi esempi, come al solito, il giardino del vicino è sempre più verde, ma non lo specifico, quando si hanno meno risorse, si concentrano quelle poche che si hanno, oppure quelle tante che si hanno, per valorizzare quel poco che si ha. Nel nostro caso, ovviamente, avendo tantissimo da fare, molte volte, diciamo, ci disperdiamo nel voler promuovere tutto, quindi probabilmente qualche scelta andrà fatta, anche in questo senso. Comunque, in qualche modo, a medio e lungo termine, la scelta, diciamo, di poter, in qualche maniera, conquistare dei pubblici, come vi chiamo io, è legata anche, appunto, a questo progetto, dunque, di remotizzazione e anche di accattivarsi, in qualche maniera, tutti i vari pubblici che ci sono, da tutte le generazioni X, Y, perlostro che Milenians, ma quello di rendere questo, finalmente, questo nostro prodotto, un prodotto senza aver paura di parlarne come tale. Qualcosa che, comunque, sicuramente, dovrà essere maggiormente fruibile, quindi, sicuramente, dovrà essere abbastanza cheap, ma, allo stesso tempo, debba essere, comunque, in grado di poter trovare dei customer, dei consumatori, ecco, perché il nostro orientamento al cliente è proprio in questo senso. Quindi, arrivare, finalmente, che è un po' questo, secondo me, il problema principale del nostro settore, ad una progettazione, ad una creazione, ad una programmazione che non sia più top-down, ma che sia bottom-up. E per attivare questo, bisogna inserire, all'interno, quindi, dell'attività museale, e non solo di questo, la cultura del dato, il data meaning, cioè, nel senso che sarà il dato che ci potrà dire cosa poter fare, cosa dover fare. È interessante, sempre più, sapere come la gente si muove, quali sono le sue desiderate. e non è impensabile che nel nostro paese, che comunque della cultura, si fa un vanto. Ricordo a tutti che cultura e turismo insieme coprono quasi il 25% del PIL. E in questo momento stiamo perdendo 450 milioni di notti e abbiamo perso, fino ad adesso, 100 milioni di turisti. Quindi, per quanto riguarda i ricavi commerciali, siamo sopra il 75-80%. Quindi, se pensiamo che in qualche maniera, in qualche modo, a livello di risk assessment, la presenza fisica potrà essere ripresa ai ritmi del 2018-2019 tra 4-5 anni, credo che questo sia un buon motivo per ripensare a questa modalità di fruizione senza troppi vincoli, senza sofismi, senza, senza, diciamo, troppe autoreferenzialità. Lo dico ovviamente perché poi sono i conti economici delle aziende che devono sostenere anche una parte occupazionale molto importante, anche in un settore dove l'intervento pubblico è fondamentale, ricordo comunque in questo momento ad esempio noi siamo fermi, mentre magari per fortuna, questo lo dico ovviamente non con invidia ma anzi lo dico con lo dico con con maggior favore, le, diciamo, i musei privati, le fondazioni sono aperte e quindi per fortuna c'è qualcuno che mantiene il presidio anche minimo della cultura, ma teatri, opera, tutte quelle che sono diciamo le istituzioni che ruotano intorno alla cultura, quasi tutte di origine pubblica sono ferme. Quindi anche in questo l'intervento del pubblico deve cambiare, deve cambiare soprattutto nell'ottica dei nuovi strumenti che già la legge Mattia ci metteva a disposizione, quindi il project financing, quindi ancor di più i PPP che sono tipici dei settori industriali ma che comunque invece non debbano escludere anche il nostro settore. Ricordo a tutti che molte aziende e questo tanto per citare l'economia l'economia compartimentale, i modelli di italia, quindi ormai dobbiamo capire che il cliente viene influenzato nelle modalità d'acquisto anche da chi ci vede vicino, anche di come ci vede. Quindi una brand identity forte della bellezza in generale senza entrare nei settori specifici aiuterà comunque ad accattivarci le richieste e anche perché no, anche le istanze e le necessità di gruppi magari che sono sul mercato consumer che hanno bisogno di associare ai loro prodotti anche qualcosa che invece sia veramente di contenuto. Perdonatevi diciamo per la grossa normalità dell'esposizione ma per farvi capire che noi dobbiamo arrivare quindi come settore in generale alla dico della musicalizzazione ma in generale al settore della cultura a non pensare che questa cosa possa essere comunque di fatto regalata a pioggia a tutti quanti perché l'intervento pubblico per ovvi motivi a livello di fiscalizzazione non potrà tenere i ritmi degli anni scorsi. Se vogliamo citare i modelli esteri credo che comunque dovremmo riguardare più il nostro ovvero tutti quanti tutti quanti i paesi puntano su uno o due musei e nel caso specifico anche quelli che vengono mostrati come esempi parlo dell'Uvr prende comunque l'85% di subvenzione pubblica quindi in qualche modo tutti i modelli virtuosi noi li prendiamo li capiamo li analizziamo però noi siamo un fenomeno in qualche maniera a parte proprio per l'enorme diversità di bellezze di cui abbiamo bisogno quindi credo che la strada comunque intrapresa necessaria quella comunque di perché in questo momento ci dà la possibilità io vi parlo che il nostro hashtag io resto a casa cultura io credo che abbia ad oggi quasi 40 milioni di contatti così come tutti quanti i nostri i siti che viaggiano o più 1500% più 2000% quindi stiamo erogando servizi comunque con una produzione che ovviamente chiamarla ancora di digitale high tech è ovviamente un sofismo ma che comunque in questo modo stanno intrattenendo migliaia e migliaia di persone da casa che ci stanno che ci stanno seguendo ecco questo secondo me in qualche modo dovrà essere dovrà essere il punto di partenza perché le attività didattiche le attività scientifiche dovranno essere comunque erogate sia dal pubblico dal privato in maniera ritengo cheap in maniera economica perché è giusto che sia così proprio perché è un diritto universale altrettanto non dobbiamo scandalizzarci se nel medio e lungo termine potessimo creare e noi ci stiamo pensando e qui ripeto un po' sospingo e solletico la generazione scientifica che ci sta ascoltando verso dei modelli di revenue sharing in cui pubblico e privato possono farlo diventare veramente un prodotto altrettanto appetibile ma anche diciamo in qualche maniera semplice da fruire molte volte diciamo in questo mondo in tutto quanto il mondo della cultura viene diciamo additato di essere troppo autoreferenziale non credo che sia così però per evitare anche questo tipo di problemi secondo me probabilmente potremmo fare anche più a proprio a livello di comunicazione ecco perché ho citato diciamo il modello di Daler per poi non andare invece proprio su quello circolare quindi sull'economia circolare ancora di più è ancora più importante in termini di sostenibilità perché la nostra industria della cultura in generale è proprio un'industria che molto 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 si avvicina proprio a tutto questo a tutto questo modello di economia circolare quindi io termino quindi vi vi passo a lei la parola dottoressa se ci sono altre domande la ringrazio per il suo intervento e naturalmente è interessante anche confrontare queste diverse prospettive il suo punto di vista manageriale rispetto a quello che abbiamo sentito e che andremo a sentire magari passerei la parola al prossimo speaker e poi ci possiamo ritrovare per un momento di discussione di modo da non perdere il ritmo della giornata e la scaletta e passerei la parola a Federico Borselli se è pronto lo vedevo connesso e allerta e come prima anche nel suo caso lo introduco brevemente e poi darò lo schermo a lui Federico Borselli è uno storico dell'arte si occupa di arte cinema e musica tre passioni che sono state al centro del suo lavoro a partire dal 2013 è stato responsabile per il Maxi delle attività di marketing e dal 2000 e a partire dal 2016 ha promosso un'attività molto importante direi sul territorio ma anche come modello nazionale è stato il creatore e curatore di Maxi Art at Work che è diciamo il progetto di alternanza scuola-lavoro che ci presenterà oggi e che in un certo senso secondo me offre un modello molto interessante da persona che vive e lavora all'estero offre un modello interessante di come integrare e appassionare le nuove generazioni al mondo dei musei passo la parola perfetto grazie mille dottoressa Frigieri con il mio intervento in qualche modo come giustamente diceva lei si arriva alla trincea ovvero il progetto del Maxi è un progetto rivolto al target dei più giovani degli studenti diciamo delle scuole ma intanto buonasera a tutti come diceva dottoressa Frigieri insieme alla collega Giulia Masini sono il responsabile del progetto di alternanza scuola lavoro chiamato appunto Maxi Artwork al Maxi che è il museo nazionale delle arti del ventunesimo secolo di Roma e dell'Aquila tra qualche settimana speriamo di inaugurare anche la sede aquilana c'è al Maxi un nutrito staff dell'ufficio formazione che è composto sia dal dipartimento educazione che dall'ufficio del public engagement ai quali si aggiunge appunto l'ufficio PCTO in realtà il nome dell'alternanza oggi è questo ovvero percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento l'intero ufficio formazione lavora a progetti rivolti ai diversi pubblici con proposte articolate con un ragionamento che va incontro alle tante possibili richieste e con l'obiettivo di coinvolgere attivamente professionisti famiglie studenti addetti ai lavori visitatori diversamente abili eccetera nello specifico con Giulia e un piccolo staff formato da Sharon Carullo e Susanna Cornarella dal 2016 nasce Maxi Artwork e quindi abbiamo fatto sì che tutto il background dell'esperienza precedente al Maxi con il marketing territoriale e soprattutto con il bagaglio di studi e di esperienze lavorative ci ha portato ad ideare un programma che fa riferimento alla legge 107 del 2015 ovvero la cosiddetta riforma della buona scuola che prevedeva l'adozione anche in Italia dell'alternanza scuola lavoro per tutte le scuole secondarie di secondo grado in realtà l'alternanza già esisteva ma era specifica per gli istituti tecnici per esempio l'alberghiero allora Maxi Artwork ha un sottotitolo che spiega in poche parole cos'è questo progetto grazie al quale gli studenti sperimentano e condividono le professioni della cultura durante il PCTO chiamiamolo così più brevemente spieghiamo il come il perché e anche per chi si organizza una mostra o un evento culturale è un progetto molto complesso che vede la partecipazione dell'intero organico del Maxi e quindi siamo riusciti a portare diciamo davanti alla platea degli studenti direttori artistici curatori allestitori responsabili della comunicazione e del marketing e a questo a questi si aggiungono gli addetti ai lavori esterni che fanno parte dell'indotto del Maxi quindi ad esempio agenzie pubblicitarie giornalisti videomaker professionisti che abitualmente sono coinvolti nei diversi processi lavorativi del Maxi quindi abbiamo un diciamo corpo docente particolarmente nutrito oltre a questi anche alcuni artisti hanno portato la loro testimonianza e siamo molto orgogliosi che la fotografa Letizia Battaglia sia stata la prima a prendere la parola e quindi in qualche modo ha dato lustro al nostro progetto la testimonianza diretta è fondamentale perché fa scoprire il dietro le quinte del settore lavorativo della cultura ecco che in qualche modo il Maxi è il museo delle arti del ventunesimo secolo quindi comprendiamo praticamente tutte le espressioni ci aiuta a coinvolgere tanti addetti e tante personalità e questo è fondamentale questo presupposto cioè la testimonianza diretta perché rispetta quelli che sono i capisaldi indicati dal MIUR riguardo ai PCTO ovvero la formazione questi nostri colleghi ci aiutano a far capire agli studenti qual è il lavoro in cosa si comporta e si costituisce ma contemporaneamente danno indicazioni anche per quanto riguarda l'orientamento cioè il corso di studi ideale per diventare curatore addetto al marketing eccetera eccetera dopodiché si passa alla fase più importante la sperimentazione cioè i ragazzi grazie a workshop e simulazioni mettono le mani in pasta in qualche modo vestono i panni delle professioni sopraccitate per coinvolgere e motivare gli studenti che spesso e volentieri non conoscono il mondo dei beni culturali ci avvaliamo di tutta una serie di spedienti e questo fa sì che nel nostro progetto nel nostro programma si era previsto micro learning quindi facciamo uso anche oggi soprattutto che siamo ovviamente attivi pur se online quindi webinar free per classroom questo soprattutto quando il progetto si teneva nei locali del maxi per arrivare poi alla pedagogia del patrimonio quindi usiamo lo storytelling varie forme di coinvolgimento e di espressione oltre a espedienti spesso e volentieri molto divertenti che possono essere quiz caccia al tesoro insomma movimentiamo tantissimo il programma ci tengo a sottolineare che io e Giulia lavoriamo a stretto contatto con il corpo docente quindi il programma di maxi artwork nasce da una coprogettazione con professori tutor scolastici e ovviamente con i presidi c'è un prima e c'è un dopo c'è il lockdown soprattutto quello che è partito in Italia a marzo ha fatto sì che io Giulia Sharon e Susanna abbiamo in qualche modo convertito tutto quello che maxi artwork era in presenza in una versione online con qualche difficoltà all'inizio ma sta andando molto bene siamo già alla terza edizione dura circa una settimana cinque giorni i ragazzi stanno con noi praticamente per tutto il giorno online questo fa sì che ci sia un coinvolgimento effettivamente al cento per cento con gli studenti ma anche con il corpo docente una cosa alla quale tengo molto è che senza la collaborazione della Camera di Commercio di Roma e dell'Aquila questo progetto non sarebbe possibile non sarebbe sostenibile per le scuole e un altro partner molto importante è Lazio Innova una branca della regione Lazio con la quale condividiamo il progetto che noi esportiamo nelle altre province quindi oltre a Roma dopodiché poi ci sono tante collaborazioni con la Sapienza con l'Università con la professoressa Schiaffini di arte contemporanea e storia della fotografia con l'Accademia di Palermo io ho anche una brevissima presentazione se è possibile se la professoressa mi dia l'ok la faccio vedere ok grazie allora eccola qui allora ecco sarò veloce qui abbiamo la copertina che adesso spero che vada avanti ecco perfetto qui in sintesi è quello del quale parlavo prima cioè i tre pilastri del MIUR formazione sperimentazione e orientamento con il nostro obiettivo è quello di attivare il pensiere critico degli studenti che diventano effettivamente i protagonisti di questo progetto come diceva prima la dottoressa Friggeri il nostro è un format noi siamo molto disponibili e interessati a condividere questo progetto con altri musei siamo a disposizione l'ho dimostrato quando parlavamo appunto di Sapienza o Accademia di Belle Arti di Palermo cioè abbiamo fatto un upgrade nel programma proprio per entrare anche in un contesto diciamo di livello diciamo scolastico più alto i tre ambiti nei quali noi andiamo a lavorare è per quanto riguarda il workshop di Maxi Art la direzione artistica e la curatera quindi c'è un laboratorio dedicato proprio alla creazione di una mostra ci sono un progetto invece un programma dedicato al marketing culturale e quindi sono dei progetti che vanno a stretto giro con il marketing territoriale e poi ovviamente comunicazione e promozione dei beni culturali e questo va di pari passo con tutto quello che poi è la comunicazione digitale soprattutto social network e non solo una cosa la quale tengo tantissimo è che noi abbiamo coinvolto nell'arco di quattro anni dal 2016 che il progetto sono avanti ben 63 addetti ai lavori dai nostri colleghi ma anche esterni andiamo avanti ah no scusate ho sbagliato il pulsante ecco questi sono un po' di dati ai quali tengo ovvero noi abbiamo coinvolto abbiamo lavorato con 39 scuole secondarie ad oggi abbiamo lavorato con più di 2500 studenti di qualsiasi indirizzo didattico abbiamo prodotto più di 1800 ore tra didattica e workshop e abbiamo anche collaborato tantissimo con tutta una serie di realtà sia locali che non tra l'altro c'è anche Zedema quindi il dottor Tagliacozzo ci siamo incontrati più di una volta ma soprattutto con lo staff di Zedema abbiamo portato i ragazzi nei loro musei ecco il maxi non si chiude all'interno della bellissima struttura progettata da Zadid ma noi portiamo con una responsabilità che vi lascio immaginare gli studenti anche in tutta una serie di altre realtà perché il maxi parla di tante arti quindi all'auditorium alle biblioteche di Roma a Binario F la festa del cinema con Mario Sesti abbiamo lavorato tantissimo Galleria Borghese eccetera eccetera con Open House facciamo un progetto ormai da quattro anni e ovviamente tantissimi musei ma anche altre realtà culturali si vede ad esempio scomodo la cosa che ci piace tantissimo è che hanno dedicato ben quattro tesi a Maxi Art studenti della Bocconi della Cafoscari la Sapienza e Tor Vergata hanno scritto delle tesi si sono laureati facendo uno studio più o meno dettagliato su determinati aspetti chi più facendo una ricerca diciamo statistica chi invece l'approccio è sul format se possibile posso far vedere un brevissimo video dura pochissimi minuti di una collaborazione con lo IED in questo caso abbiamo lavorato legandoci proprio alla costruzione e alla realizzazione con l'Istituto Europeo del Design sperando che il video parta ok ok Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In basso c'è scritto floor, your language e uno può cambiare stanza a seconda della lingua. So Julie Leclerc. So Julie Leclerc, direttore di Travelling Exhibition at Ingenience presso il Museo di Scienza Innovazione in Canada. Incoraggia i canadesi e tutti i cittadini nel mondo a apprendere circa STEM e come tutto questo può impattare la loro vita quotidiana. ha studiato storia canadese, ama viaggiare e ama combinare la passione lavorativa con quella appunto personale del viaggio. è un membro Icon e senza rubarvi un solo minuto oltre lascio la parola a Julie. Buongiorno a tutti da Ottawa. Fa molto freddo qui, abbiamo anche un po' di neve, vi parlerò del design accessibile alle mostre diciamo e sto per condividere la mia presentazione, sperando che funzioni, perché in questo momento non sembra reagire. non vediamo la presentazione, esiste un pulsante con un più a sinistra, l'opzione centrale è condividi presentazione, e si può cliccare su questo. Abbiamo avuto alcune... Sto provando ma non mi da proprio la possibilità, ci riprovo... forse... lasciamo la parola... freddo freddo ... ... è stato direttore di arti visive, si è occupata di mostre per cultura americana e africana, responsabile anche nell'ambito dell'istruzione nella storia dell'arte e molto altro, quindi un relatore che davvero può dirci moltissimo circa la materia che trattiamo oggi, la questione che è oggetto oggi della nostra discussione, le lascio la parola per questo motivo. Buon pomeriggio, sono Cecilia Schallmann e sono felice di presentare oggi, parlando di diversità e inclusione nei musei. Ora condivido il mio schermo, ho una rapida presentazione in PowerPoint che vado a condividere con voi. Ho un'esperienza di circa 30 anni nell'ambito dei musei, non sono soltanto consulente, perché sono stata anche presidente del Comitato per la Diversità nell'American Alliance dei Musei e faccio parte anche di un team particolare che si è occupato proprio di inclusione e diversità presso la stessa American Alliance. Ho continuato poi a fare consulenza da sempre per oltre 50 musei, sia a livello nazionale e internazionale, per quel che attiene appunto questione di diversità, uguaglianza, accessibilità, inclusione, antirazzismo. Nel 2017, immediatamente dopo aver sviluppato un piano strategico, l'American Alliance of Museums si è ritrovata in un gruppo di lavoro proprio per trattare queste materie, ovvero diversità, uguaglianza, accessibilità e inclusione. 20 professionisti, me inclusa, hanno rappresentato naturalmente un'ampia gamma di discipline, si sono incontrati diciamo mensilmente in Arlington, in Virginia, e per appunto trattare, per poter sviluppare questa pianificazione. Per sei mesi abbiamo appunto preso in esame tutte le, quelle caratteristiche che funzionano bene in quei musei che hanno adottato pratiche di inclusione per capire come poter promuoverle in altre realtà, in altre entità. Comitato che è stato gestito dal Laura Lott, che è il presidente di Alliance, nonché CEO, e anche da Johnnetta Betzko, che è per l'appunto leader del DEAE. Qual era l'obiettivo? Cercare per l'appunto di capire quali fossero quelle attività che era possibile promuovere, per poter capire le sfide chiave, le questioni e le opportunità collegate proprio alla promozione delle tematiche di cui sopra abbiamo cominciato ad ascoltare, interagire con vari settori che avevano già superato queste sfide con successo, e poi ci è stato chiesto ovviamente di pianificare, di dare, diciamo, di prevedere dei passi perché i professionisti dei musei potessero poi avanzare in quell'ambito, e infine ci è stato chiesto appunto di definire opportunità per collaborazione e ovviamente per i passi successivi per l'implementazione. Tutto questo processo ovviamente ci ha portato ad alcune conclusioni, fra le quali siamo giunti alla conclusione che tutti i professionisti devono comunque portare avanti un lavoro personale per poter far fronte a quei pregiudizi inconsci, che molto spesso hanno a che vedere con quelle credenze che talvolta non riconosciamo neanche come nostre, e questo tipo di atteggiamento molto spesso influenzano proprio il nostro giudizio nel rispetto degli altri, quindi ci aspettiamo un certo tipo di interazione e quando questo non avviene, non esiste, non è presente, sviluppiamo questi bias, questi pregiudizi, li abbiamo tutti ed è qualcosa di cui dobbiamo liberarci. Devo dire soprattutto negli Stati Uniti d'America questo avviene, dove abbiamo ovviamente un lascito piuttosto importante a causa del colonialismo, diciamo che gruppi di coloro che non sono bianchi si sono ritrovati oggetto di questi bias, di questi pregiudizi e molto spesso sono sottorappresentati rispetto ai bianchi. James Maldwin ha detto che non tutto quello che si può affrontare può essere modificato, ma nulla si modifica fino a che non lo si affronta, e quindi direi che il titolo dell'iniziativa del museo è stato proprio questa, affrontare e cambiare. Non si può chiamarlo un punto cieco se la tua mancanza di visione, di visualizzazione, di visibilità è intenzionale, ed è per questo che abbiamo cominciato a pensare come poter sradicare questi pregiudizi e riconoscere i nostri privilegi ed essere molto attenti a quello che serve anche agli altri per poter stare bene. Quindi come tutto questo avviene all'interno di un museo? Beh, dal boardroom alle classi dove si tengono lezioni. In qualunque fase è necessario esaminare e analizzare la diversità, mai con un approccio difensivo, e mai dovremmo dire che dal momento che abbiamo una diversità in un'area lo siamo anche in altre, dobbiamo continuamente sfidarci e umilmente riuscire ad includere noi stessi e gli altri. E poi l'uguaglianza, la questione dell'uguaglianza che è molto diverso ad esempio da quello che è equo. Uguaglianza significa che tutti hanno accesso alle stesse risorse. Equo, equità, significa che tutti hanno quelle risorse di cui hanno necessità, bisogno, per poter sopravvivere e andare avanti e aver successo nella vita. Nella realtà, soprattutto quello che avviene nelle organizzazioni come ad esempio i musei, e soprattutto negli Stati Uniti, ma non solo, vi sono organizzazioni che hanno molto di più rispetto a quello di cui hanno bisogno. Molto spesso gli individui, per l'appunto, vengono rispettati di più nel momento in cui ricoprono delle posizioni più elevate, più importanti e queste posizioni hanno tradizionalmente escluso le persone di colore, persone con disabilità e altre. Parlando di accessibilità, la mia collega Giulia in realtà ne parlerà. Questo comunque è il trentesimo anniversario dell'atto sulla disabilità negli Stati Uniti e molti musei stanno prestando grande attenzione a come ora lavorano e interagiscono con persone affette da disabilità. Inclusione significa appartenenza invece direi, cioè ci siamo rispettati, qualcuno si aspetta da noi qualcosa, qualcuno ci invita a partecipare, a prendere parte pienamente a qualcosa. Quindi abbiamo la diversità che ha qualcosa a che fare con i numeri, con il contare, quante persone si trovano in una stanza ad esempio, quante persone hanno accesso al museo, quante sono le mostre numericamente, quanti sono le rappresentazioni della cultura. L'equità abbiamo detto è assicurarci che abbiamo l'opportunità corretta per poter avanzare, per crescere in carriera, ma non solo, l'accessibilità è quello che vi dicevo, la possibilità ad esempio di consentire alle persone affette da disabilità di entrare, oppure magari l'accessibilità anche linguistica, qualcuno che possa comprendere anche se non conosce l'inglese. Inclusione è il senso di appartenenza, l'appartenenza è ricevere rispetto, essere tenuti in considerazione. La diversità talvolta ha a che vedere con quelle differenze che possono fare la differenza, ovviamente in una modalità contestuale. Prendiamo gli Stati Uniti, si parla di quelle comunità, gli LGBTQIA, quindi che provengono da quel tipo di comunità, oppure quegli impiegati che abbiano superato i 40 anni d'età, persone con disabilità, persone con difficoltà economiche, persone di colore, ad esempio, neri, indigeni, appunto pelle scura e diversi dal bianco, donne e i nuovi immigrati, quindi coloro che vengono a vivere negli Stati Uniti. Avete sentito parlare dei disordini che ci sono stati negli Stati Uniti, devo dire, ormai sono presenti da centinaia di anni ormai dagli Stati Uniti, ma devo dire, recentemente, soprattutto dopo la morte di George Floyd, dopo il suo omicidio che è avvenuto nel 2020 in molti musei, hanno finalmente compreso la responsabilità che possono avere nei confronti di persone di colore, soprattutto i neri. E quindi hanno cominciato a guardare, ad esempio, che cosa significa il white privilege. Qui c'è questo articolo straordinario scritto da Peggy McIntosh, che spiega in molte modalità perché alcune persone risultano avere questo numero straordinario di privilegi, qualcosa a cui non possono accedere le persone di colore. Quali? Ad esempio, il white privilege è una sorta di offerta invisibile che le persone hanno nel momento in cui hanno a che fare con il resto del mondo. vorrei farvi alcuni esempi. Un bianco, se lo desidera, può organizzare di entrare a far parte di un gruppo di persone che hanno lo stesso colore, che non è la stessa cosa che avviene con le persone di colore. Numero 5, possono andare a fare shopping da solo, la maggior parte delle volte, e sicuramente non avverrà alcun tipo di molestie. Questo purtroppo non avviene con le persone di colore, soprattutto, ripeto, negli Stati Uniti. McIntosh ha identificato proprio una serie di punti, vedete, adesso li sto facendo, li sto passando in rassegna rapidamente con le mie diapositive, ma sono moltissimi casi che il dottor McIntosh ha voluto evidenziare e che vanno in qualche modo a parlare delle discriminazioni delle persone di colore rispetto al white privilege, quindi ad essere, di avere la pelle di colore bianco. Quindi è qualcosa che stiamo cercando di sradicare, naturalmente, e questa nuova pandemia, questa nuova pandemia ci mette di fronte al fatto che, così come vogliamo sradicare il Covid, vogliamo anche sradicare il razzismo, l'omofobia, e tutte queste piaghe che hanno a che fare con la società. Tutto questo richiede un cambiamento culturale, un impegno individuale, a livello di individuo, che deve essere continuo, richiede un impegno collettivo e che anche i musei possono assumersi, che ci piaccia o meno, che ci troviamo o meno a nostro agio. È necessario avere sempre le migliori intenzioni nei confronti dell'altro e poter sviluppare team building, fiducia. Dobbiamo dare un nome, definire, riconoscere i danni che vogliamo, in qualche modo, evitare e sradicare. Grazie, grazie mille. Immagino che ora prenderà la parola la mia collega, ovviamente sono a disposizione per eventuali domande, qualora poi le abbiate. Grazie, Cecil, per averci offerto la tua prospettiva. Hai parlato dell'appartenenza, del belonging, qualcosa che ha molto a che vedere, che interseca tutte le tematiche di oggi, quindi la necessità che il museo vada a ripensare proprio chi meritano di avere, chi devono poter invitare. Mi è piaciuto molto questa diversa prospettiva. Siamo veramente in ritardo, ahimè. Mi spiace, non sono stata una brava moderatrice, evidentemente, un bravo arbitro. So che Fabio ci deve lasciare a brevissimo, quindi magari... Giulie, ti dispiace se lascio prima la parola a Fabio, che mi sta dicendo di sì. Giulie, poi hai sistemato con la tua presentazione. Ok. Bene, speriamo dunque di riuscire. Torniamo all'italiano. Ok. Il dottor Pagano è il direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei e ha lavorato nel contesto del Ministero dei Beni Culturali e delle Attività per il Turismo a partire dal 2012. È stato il direttore del Museo Nazionale Archeologico di Cividale del Friuli, del Museo Nazionale Archeologico e del Teatro Romano di Spoleto e dell'area archeologica di Carzule e per un periodo è anche lavorato al Direttorato Generale dei Musei. Quindi di nuovo abbiamo con noi uno speaker con un background molto illustre e che in un certo senso ci porta a vedere come la rappresentazione del passato avviene nel presente e nel contesto di questa idea di diversifica e inclusività. E passo la parola al dottor Pagano. Sì, buonasera a tutti. Grazie Flavia, anche dell'aiuto ad anticipare il mio pitch. Riuscirò ad essere con voi fino ai 17, ma avevo paura poi di non riuscire ad avere il tempo per la mia presentazione. Anch'io rischio la sorte e cerco di condividere lo schermo. Ok, credo che voi vediate ok, vedo un senso di consenso. Quindi il mio tentativo oggi è di ragionare sui temi che sono stati proposti in questo panel, in questa nostra discussione, ovviamente usando il nostro punto di vista, la nostra prospettiva. E quando parlo di nostra, parlo in questo momento per me e per i miei colleghi, che condividono questa avventura, quella del Parco archeologico dei Campi Fegrei. Nella prospettiva di interpretare appunto i temi che sono stati proposti e quindi la declinazione, se vogliamo, di un minimo comune denominatore che io posso intravedere nella relazionalità, declinata in molte forme rispetto appunto alla nostra dimensione di gestori, del patrimonio e di ovviamente agenti dialoganti rispetto alla nostra comunità. Ecco, e la prospettiva è quella di un parco archeologico, quindi veramente entriamo in trincea, tocchiamo terra con i piedi. Ed è una realtà molto diversificata che ha inciso profondamente nella sua entità, nella stesura, nella redazione, nello sviluppo della nostra strategia che stiamo cercando di attuare e che abbiamo definito già prima ovviamente della pandemia e della modifica di alcuni atteggiamenti, alcune prassi dovute ovviamente ai vari ormai lockdown e quindi abbiamo definito nello scorso 2019 sul finire di quell'anno. Una strategia che parte da questa natura così particolare e così intensamente relazionale nella sua dimensione patrimoniale perché siamo un parco archeologico distribuito in un territorio a nord di Napoli articolato in uno spazio dal punto di vista geologico molto caratterizzato e quindi affine per la scultura di un paesaggio naturale che rende questi luoghi effettivamente coerenti, ma articolato in 25 siti di cui vedete una pianta di distribuzione con una loro storia, con molte sinapsi che si possono attivare ma soprattutto con dei recinti ben definiti. Quindi in realtà usiamo un insieme di 25 monumenti, aree archeologiche, parti archeologiche, musei che hanno la propria dimensione di relazionalità con l'altro ben definita all'interno di un quadro generale in cui lo stesso parco deve porsi in dimensione relazionale. Questa è la natura da cui partiamo che noi vediamo come una difficoltà ovviamente gestionale, non indifferente, ma che ci piace pensare, ci sforziamo di pensare come una enorme potenzialità di sviluppo. La nostra strategia quindi si ruota intorno a questa peculiarità a differenza di altri parchi diciamo così più canonici e ortodossi, pensiamo a Pompei, pensiamo ad Ercolano, pensiamo al parco archeologico di Pestum, ma anche se Pestum ha una sua dimensione anche essa articolata al suo interno, noi abbiamo appunto questa dimensione di 25 luoghi distribuiti tra l'altro su quattro territori di distinte amministrazioni comunali che hanno al loro interno una dimensione diciamo così attrattiva sia interna che esterna, nel senso che abbiamo dei luoghi quali l'anfiteatro Flavio di Pozzuoli, quali il parco archeologico di Cuma o quali il Castello Aragonese di Baia o il parco archeologico dei Termini di Baia, che hanno una capacità gravitazionale rispetto a altri luoghi, altri monumenti, altri siti archeologici che ruotano intorno ad essi come satelliti. E quindi una prima dimensione relazionale la troviamo nello stesso nostro patrimonio e poi soprattutto nella capacità con cui questo patrimonio può trovare, è uno degli elementi che noi abbiamo posto in cima ai nostri obiettivi del piano strategico, una sorta di legittimazione cognitiva, cioè la capacità di far diventare questa istituzione che ha trovato la sua legittimazione amministrativa ormai da quattro anni e mezzo, cioè dal momento in cui il Ministero ha fatto nascere il nostro parco, come invece un interlocutore in maniera cognitiva legittimato ad ascoltare, a dare risposte ed essere presente in primo luogo sul territorio. E intorno a questi 25 luoghi, intorno a questi confini labili, a un confine inesistente dell'intero parco, si muove gran parte della nostra strategia, sia nella sua proiezione, direi, pre-Covid, e sia ancora più fortemente caratterizzata e ancora con più forte convinzione nella strategia post-Covid. Mi verrebbe da dire che eravamo, da un certo punto di vista, Covid, prima del Covid, che molte delle istanze che adesso accompagnano nuove forme di declinazioni e cambiamenti in atto nei gestori del patrimonio, per noi erano stringenti fin dai mesi precedenti alla pandemia. Intorno a questo, il nostro tentativo di cambiamento, il nostro tentativo di sviluppare una dimensione relazionale con il pubblico, ma in primo luogo con la nostra comunità, è ruotata intorno a un percorso di relazione che ruota intorno al nostro patrimonio, ma nella pura gestione del patrimonio stesso. Quindi in questo veloce slide ho sintetizzato delle attività che sono state condotte dal Parco tra l'ottobre circa un anno fa e il dicembre del 2019, quando il Parco stava scolpendo, ragionando e definendo la propria strategia e dava concretezza a una prima azione concreta con la quale il Parco voleva dare e trovare delle risposte a uno dei problemi gestionali di un Parco composto da 25 siti con la capacità endemica al sistema museale italiano di non avere risorse umane disponibili per garantire una completa fruizione e apertura di quei luoghi. Quindi alla domanda come ampliare la nostra capacità di fruizione, la risposta, o il tentativo di risposta è stata quella di spingere verso questa relazionalità per i motivi che velocemente avevo cercato di sintetizzare davanti alle prime slide. Cioè per quella dimensione in cui alcuni luoghi del Parco sui quali abbiamo appuntato l'attenzione, insomma gli archeologi hanno ben presente il potere evocativo e l'importanza archeologica di contesti quali la piscina Mirabilis di Bacoli che vedete in basso a sinistra. Insomma, la più grande e imponente cisterna idrica prodotta e conservata e lasciata dal mondo romano nell'interno Mediterraneo o il cosiddetto Tempio di Serapide di Pozzuoli. Due luoghi sui quali il Parco è riuscito storicamente a concedere possibilità di frizione molto limitate e per le quali voleva delle risposte, voleva trovare risposte. Quelle risposte sono state cercate in un rapporto di partenariato pubblico-privato. Quindi nella costruzione di quello che le norme ci consentono anche se non ancora in maniera così chiara e limpida delle norme di settore del nostro patrimonio, del nostro codice ma previste ad esempio nel codice degli appalti dei lavori pubblici cercando di progettare e sviluppare un percorso di partenariato pubblico-privato per la gestione e valorizzazione di questi due luoghi. Si è avviato con un ovviamente ordinario avviso pubblico che si è accompagnato per circa tre mesi in un percorso di ascolto, di ricezione e trasmissione. Se vogliamo anche di preparazione a questo dialogo che noi cercavamo di attuare con quest'azione che è passato per una serie di cose che adesso velocemente cercherò di raccontarvi. Per una cosa che abbiamo chiamato il parco delle idee un momento in cui il parco ha violentato il proprio logo aprendo il cerchio che contraddistingue insomma un po' il nostro territorio quel cerchio dei laghi delle volte di Baia dei crateri vulcanici che è stato sintetizzato nel nostro logo che vedete in alto a destra. Per chiedere alla nostra comunità ma non soltanto ad essa di venire da noi era una call aperta alla quale hanno risposto circa 136 persone e chiedendo loro di portare delle idee e quindi per tre giorni in un momento di estrema dialettica abbiamo nella fase in cui la strategia si stava definendo abbiamo dialogato in otto tavoli dico progettazione con persone e qui non solo grafico in realtà avrei potuto portarne altri ma insomma il tempo è tiranno anche in questo volevo semplicemente rappresentarvi la presenza di un'ottima fascia un'ottima rappresentanza di fasce di ragazzi studenti giovani professionisti che vanno dai 21 ai 35 anni che hanno accolto questa nostra proposta hanno passato con noi con degli esperti che ci hanno accompagnato a ragionare su un parco che si stava costruendo e dei confini che si aprivano anche per incamerare nuove idee abbiamo poi accompagnato dialogando con le amministrazioni comunali raccontando il nuovo metodo che cercavamo cercavamo di approcciare sia con il comune di Pozzuoli e il comune di Bacoli queste locandine ci richiamano le attività che abbiamo svolto nel corso della fine del 2019 per arrivare con carichi di entusiasmo alla chiusura di questo percorso nel gennaio febbraio del 20 e con finalmente una commissione che ci ha restituito due raggruppamenti risultati vincitori di questa proposta e quindi un'azione concreta della nostra strategia sarebbe potuta partire a breve se non ovviamente il covid non fosse entrato nella nostra vita anche nella vita del parco archeologico modificando molto delle azioni e quindi questa azione sarebbe potuta partire avrebbe potuto avviare quel percorso sperimentale ma insomma per noi molto similante si è da un lato congelata e si è trasformata in un dialogo previsto in questo rapporto partenariale perché in questo modello di nuova governance partecipata almeno su alcuni siti che il parco ha in mente e sta attuando esistono degli strumenti che ci siamo dati già nell'avviso pubblico quali un tavolo di partenariato e un laboratorio permanente sul partenariato che nelle modalità tipiche ovviamente dello smart working durante la prima fase abbiamo attivato che abbiamo trasferito appena possibile nelle dinamiche appunto di dialettica in presenza e che abbiamo poi portato nella sua prima attuazione durante un'estate quella che ormai possiamo considerare una finestra nella quale abbiamo riaperto i nostri luoghi e cercato non soltanto di animare i nostri luoghi nelle formule tra virgolette ordinarie e straordinarie che ci sono consentite ma di allargare visto che ormai il percorso era avviato questa iniziativa con i nostri nuovi partner che ci ha portato a spalancare quelle porte ma soprattutto a intercettare quello che abbiamo scoperto tra luglio ed agosto del 2020 era una posizione sulla quale stiamo continuando a ragionare interessante che i nostri luoghi possono ricoprire in uno scenario che è quello che abbiamo vissuto nell'estate del 2020 e che credo spero andremo a vivere a breve cioè quella di una dimensione in cui il parco archeologico e i suoi luoghi soprattutto laddove l'offerta possa essere ampliata in queste logiche di rapporto partenari all'interno e potenziamento della capacità ovviamente di engagement di tutte le strategie che potranno essere adottate di avere una posizione interessante su uno scenario competitivo per parlare e quindi insomma il lavoro ci ha portato nei giorni che viviamo oggi a chiudere il contratto partenariale accompagnarlo con attività quali un concorso di idee internazionali su visioni di riuso per la piscina mirabile su un concorso generato da un gruppo di giovani architetti proposto al parco e adottato dal parco che ha raccolto 700 proposte di visioni di immaginazioni di riutilizzo di quello spazio su cui abbiamo puntato l'attenzione provenienti da tutto il mondo e che adesso sono esposte le idee che sono risultate degne di attenzione e dimensione o meglio esposte al castello ma purtroppo non visibili quindi la logica che ci ha accompagnato in questo nostro tentativo di fondare la strategia e di fondarla direttamente sull'essenza del parco cercando lì le risposte cercando di formularle in azioni che le norme ci consentono di fare e avviando questo percorso in realtà che tende a accompagnare il parco in questa strategia con la nostra capacità di comunicazione e durante il momento di azione aspettavo la possibilità di poterli poi attuare e parlo della prima fase di lockdown come tutti i musei con le nostre forze energie e capacità abbiamo ovviamente continuato a parlare al nostro pubblico abbiamo cercato di continuare a raccontare il nostro pubblico ma mantenendo due elementi solidi nel nostro tentativo quella di una forte attenzione alla dimensione patrimoniale alla natura del nostro patrimonio dei nostri luoghi delle nostre collezioni e a una forte dimensione relazionale di dialettica e di coprogettazione in questi interventi che ci ha portato a fare una serie di cose ma soprattutto una che volevo così raccontarvi molto velocemente la produzione di una mappa interattiva una mappa di sentiment social potremmo definirla che abbiamo chiamato un parco di storie sulla quale abbiamo collaborato con un gruppo di Napoli che produce mappe social e manifestazioni insomma di condivisioni di esperienze in cui abbiamo chiamato a raccontare il proprio modo di relazionarsi al parco nel passato e renderlo una manifestazione ovviamente condivisa in questa piattaforma che abbiamo chiamato un parco di storie e negli stessi mesi quella tentativa di lavorare sul nostro patrimonio e dialogare con il nostro pubblico pronti a interpretare nella dimensione nella quale saremo atterrati nel momento in cui i nostri luoghi sarebbero stati riaperti abbiamo spinto in un progetto che abbiamo già pensato e già programmato che si è virato nel corso del tempo che è il nostro parco for family un parco su cui i nostri quattro luoghi vengono declinati a misura delle famiglie nella prospettiva in cui appunto le famiglie sono effettivamente state una ottima base del pubblico che ci ha scelto durante l'estate e anche in questo caso attenzione al patrimonio narrazione storytelling declinata in forme legate ai bambini ma attenzione alla costruzione di una strategia condivisa quindi attenzione allo sviluppo di un percorso anche partecipato e anche il parco for family in realtà si è accompagnato le guide interattive le proposte che sono state offerte al nostro pubblico in questo caso le famiglie si sono accompagnate ad un questionario nel quale abbiamo voluto dialogare per loro nella costruzione di un parco a misura di famiglia ponendo delle semplici domande recependo un feedback nella nostra convinzione che in questo momento uno dei nostri obiettivi è quello di aumentare la nostra capacità paradossalmente più di ricezione che di trasmissione io credo sono abbastanza convinto di questo che il mio personale sforzo ma vedo che è uno sforzo condiviso sia quello di intercettare le tendenze in alto e intercettare e interpretare quelle che arriveranno a breve per fare questo sento l'esigenza e sentiamo l'esigenza di avere una capacità in questo momento di recepire più velocemente e fiutare il vento in maniera insomma più rimanendo in quella similitudine le vele nella giusta direzione e andare verso appunto la giusta rotta e appunto accompagnare il nostro parco in questa rotta quindi insomma sostanzialmente il nostro modo di intercettare le esigenze che in questo momento vogliamo si sfonda sulla dimensione stessa del patrimonio in continuità con quella strategia e con un tentativo che non vogliamo sia assolutamente resiliente ma vogliamo che sia di trasformazione perché riteniamo e siamo abbastanza convinti che in questo momento gli scenari sono mutevoli e muteranno ancora di più e la dimensione che dovrà appunto che dovremo affrontare è proprio quella di essere rapidi pronti ai cambiamenti e a modificare alcune nostre strategie vi vi ringrazio spero veramente di non aver abusato del tempo a mia disposizione la ringrazio Fabio e l'evento sarà temporaneamente interrotto però ora abbiamo ripreso le comunicazioni allora abbiamo già sporato di nove minuti e sono cosciente che abbiamo ancora due relatrici molto interessanti che devono intervenire quindi se hanno modo di rimanere con noi leggermente di più io ovviamente sarei molto interessata a sentire i loro interventi e vogliamo riprovare con Giulie shall we try again with your presentation and see if we can make it work I'm going to pass the words on to you va bene allora te l'ho la presentazione senza immagini non sarà la cosa migliore ci sto provando ma purtroppo non funziona quindi vi parlerò di accessible design è una presentazione meravigliosa però purtroppo non posso non posso proiettare nulla mi dispiace quindi progettazione accessibile è l'argomento mi hanno detto che dovrei fare un refresh forse è possibile ma se lo faccio è possibile che perda la connessione ci provo ci provo grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ospita il laboratorio di ricerca digitale e l'ingegneria e infine il Canada Science and Technology Museum. Questo è l'aspetto del museo nel 67. Era in realtà un magazzino, una fabbrica di produzione del pane. Ma ora invece è un museo per mostrare l'importanza della scienza e della tecnologia in tutti gli aspetti della vita. Poi è stato identificato e costruito un nuovo edificio. Nel 2014 il museo si trovava ancora in quella posizione, però comunque a causa di problemi di inquinamento si è dovuto spostare. Il governo due anni dopo ha avvisato di un finanziamento per poter ricostruire il museo. Eccolo qui. Nel 2017 è stato riaperto al pubblico. Abbiamo ricevuto la certificazione di accessibilità. Quindi secondo il programma di certificazione nazionale siamo stati il primo edificio pubblico a ricevere questo tipo di certificazione. Come siamo riusciti ad arrivare a questa certificazione? Abbiamo lavorato tantissimo, ovviamente. L'accessibilità è difficile e può essere molto costosa e può anche richiedere molto tempo. Noi pensavamo sicuramente che avremmo commesso qualche errore, ma abbiamo deciso di intraprendere questa strada. L'accessibilità non significa solamente consentire l'accessibilità alle sedie a rotelle. Abbiamo deciso di consentire l'accessibilità a tutto il pubblico, quindi inclusione. Il fatto che qualcuno abbia bisogno di un dispositivo di assistenza non fa sì che questa persona debba considerarsi disabile, non è disabile. Con questa nuova prospettiva abbiamo voluto creare l'esperienza più accessibile per tutto il nostro pubblico. Agli inizi del 2014, prima della chiusura del precedente museo, avevamo già iniziato a lavorare sull'accessibilità assieme al Canadian Museum of Human Rights. Abbiamo capito che cosa stessero facendo, abbiamo lavorato anche con il Consiglio canadese per le disabilità. Abbiamo raccolto informazioni e abbiamo deciso di utilizzare queste informazioni per il nuovo museo. I nostri team hanno creato diversi gruppi, gruppo di consulenti. Abbiamo lavorato molto bene in collaborazione con questi gruppi per la definizione del nuovo museo. Sono stati molto attivi. Che cosa abbiamo appreso da questi gruppi di consulenza? Niente su di noi, senza noi. Questi gruppi che includevano diversi tipi di cittadinanza, varie tipologie di cittadinanza. Quindi abbiamo cercato di soddisfare le necessità e aspettative delle persone. Abbiamo lavorato assieme ai progettisti e ai gruppi di consulenza. Assieme abbiamo fatto prove, 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 prove sul pubblico in generale, altri gruppi, eccetera. Ovviamente se si vogliono svolgere delle consultazioni e anche delle prove, si deve essere disposti a commettere errori e a dover ripensare le proprie idee a volte. Non è semplice coinvolgere i progettisti che siano pronti a rivedere i loro progetti e le loro idee. Quindi abbiamo incluso l'accessibility standard in tutti i nostri progetti, affinché i progettisti sappiano di che cosa si tratta e come sarà il processo di accessibilità. Abbiamo anche scoperto che esistono comunque delle eccezioni. Abbiamo sviluppato un processo per cui qualunque deviazione dallo standard alla normativa doveva essere, dovesse essere presentata al direttore generale per approvazioni o rifiuto. Se è rifiutato dovevamo tornare al bordo e riprovarci. Come risultato il nostro museo fa sì che tutti i cittadini si sentano i benvenuti. Siamo andati oltre ai principi e ai requisiti minimi dello standard ovviamente. Il nuovo Canada Science and Technology Museum ha iniziato il suo lavoro su una prima mostra sulle attività da svolgere all'aperto e abbiamo utilizzato le ultime, più recenti tecnologie e le storie di maggiore ispirazione possibile. Inoltre abbiamo raccontato effettivamente delle storie incredibili. Questa è l'immagine di una slitta da hockey. Un giorno un gruppo di bambini che si trovavano in visita con un bambino che si trovava su una sedia a rotelle. Era molto felice, ha detto che è bello, sono dentro a un museo e ha indicato la slitta dicendo questa è mia, questa slitta è mia, posso giocare a hockey anch'io. Quindi si è sentito molto coinvolto. Abbiamo coinvolto tanti gruppi, abbiamo fatto domande, posto domande ai nostri visitatori. Abbiamo tenuto degli incontri di consultazione per capire quali fossero le nostre priorità e come dovessimo cambiare le priorità. Quindi costruire un museo così grande è sicuramente un'opera notevole e prendere in considerazione l'accessibilità è fondamentale. Alla fine siamo riusciti a creare un documento di normativa sulla accessibilità che è attualmente implementato e rispettato nei tre musei. Si tratta di un documento che è work in progress, continuiamo ad aggiornarlo continuamente. Questo documento include la misurazione dell'edificio, standard per le sedute, visibilità, contenuto digitale ed audio e anche aspetti meccanici. Questo standard ovviamente fornisce suggerimenti su alternative. Se desiderate il documento posso condividerlo con molto piacere. Tanto per riassumere, ecco una delle più importanti lezioni imparate. Sviluppare una mostra o un museo con piena accessibilità è difficile ma si può fare. È importante iniziare il prima possibile con le consultazioni. Essere sicuri di ricevere commenti e suggerimenti da parte di tutti. Avere buona documentazione per sopportare le decisioni e senza dimenticarsi della rappresentanza dei cittadini. Grazie mille, so di aver parlato alla velocità della luce. Spero di poter rispondere alle vostre domande. Ancora una volta, grazie mille. Grazie. Giulia? Purtroppo mi hanno detto che ci rimangono solamente 5 minuti, meno di 5 minuti. ovviamente non è una buona cosa per Eva che attende dall'inizio con molta pazienza. Questo naturalmente mi dispiace perché Eva che ha così pazientemente, la dottoressa degli innocenti che ha così pazientemente atteso il momento del suo intervento non avrà modo di parlare a questo punto. Non so se vuole dire giusto al volo un paio di parole. Sì, buonasera. 5 minuti? Quanto tempo? Quanto tempo? Allora, quindi semplicemente potrei condividere un attimo le parole. Allora, il nostro museo, Museo archeologico nazionale di Taranto, si trova nel sud del sud Italia, quindi a Taranto. In realtà è un luogo molto importante perché è una delle capitali della Magna Grecia. È un museo, uno dei più importanti musei archeologici, con reperti dalla preistoria al Medioevo, passando dai famosi ori di Taranto. Si trova in questa città che è famosa mediaticamente, anche possiamo dire quasi mondialmente, per essere una città industriale. È l'industria siderurgica di acciaio più importante d'Europa. E purtroppo questa città è nota più per il suo inquinamento e i suoi casi di problematiche sociali ed economiche che non per la sua cultura. Quindi il nostro progetto è stato di far diventare questo museo molto prestigioso, un museo che è stato creato nel 1887, ripeto, possiamo dire il secondo museo archeologico più importante d'Italia, dopo quello di Napoli, in un progetto di inclusione, cioè far diventare questo museo un vero centro di educazione e ricerca, quindi essere non solo un attrattore culturale, ma essere un attivatore di cittadinanza attiva e diventare uno strumento di governance territoriale. E quindi facendo il nostro, il claim che abbiamo scelto il payoff, è proprio Pass for Future, quindi come il passato serve a traghettare questa comunità verso un modello anche di sviluppo diverso da quello attuale, non più industriale, ma basato sulla cultura, e grazie al legame identitario dell'archeologia che permette di conoscere le proprie origini. Come modelli di inclusione e di condivisione, dal momento che il museo deve essere appunto uno strumento di creazione di comunità, di senso di appartenenza, abbiamo scelto proprio di fare un progetto delle mappe di comunità della città di Taranto, quindi ispirandoci al classico metodo delle parish map, sperimentata appunto negli anni Ottanta appunto a Veniristi che è a Londra, abbiamo fatto questa mappa di comunità interattiva della città di Taranto, lavorando con la formazione, cioè con i ragazzi delle scuole superiori, per conoscere in modo approfondito il territorio, favorire la presa di coscienza del patrimonio culturale come veicolo di appartenenza e di inclusione, rafforzare l'identità della comunità e così rilanciare anche mestieri tradizionali, prodotti tipici e valorizzare il territorio. E quindi condivido qualche foto con voi di ragazzi a lavoro che hanno disegnato la loro carta, ma soprattutto sono passati da un disamore per il loro territorio invece a un'inclusione totale. Altro progetto importante, sempre potrei dire, di inclusione della città, il nostro progetto di ricerca insieme all'Università di Foggia, quindi Fish and Chips, che è un acronimo che vedrete in realtà di un progetto importante su beni culturali, identità e comunità, lo abbiamo lavorato con la comunità dei pescatori di Taranto, affinché appunto questo grande patrimonio del mare, quindi come avete visto Taranto ha perfino due mari, una comunità marinara molto importante sia a livello culturale che economico, venissero al museo attraverso dei workshop, quindi sulle tecniche di pesca, creando delle mappe di comunità e quindi i pescatori sono venuti a lavorare al museo, a mostrare le loro tecniche di pesca, ma non isolati, ma con i nostri curatori, con i nostri archeologi, mostrando questo fil rouge che unisce l'archeologia, le tecniche di pesca antica con quelle attuali, fino a parlare appunto anche del progetto di carpenteria navale, un progetto di inclusione sociale all'interno del progetto Fish and Chips, ed è proprio questo che ha ridato identità a questa comunità e diventato anche un progetto ovviamente di sviluppo turistico economico, grazie al recupero di queste tradizioni. L'altro progetto sempre di inclusione è quello che abbiamo fatto con i migranti, quindi i centri dei richiedenti diritto di asilo, gli SPRAR, parlando il progetto, quindi avvicinando il tema delle migrazioni del passato con le migrazioni attuali, quindi i migranti dell'Africa che sono venuti a fare i nostri progetti. In questo caso una parte di migranti era anche non vedente, quindi vedete le nostre visite tattili. E per questo finirei con il nostro progetto Pass for Future, quindi un progetto di digitalizzazione, il Museo Marta 3.0, con un processo osmotico, quindi come svelare il nostro patrimonio culturale attraverso un archivio pendata digitale di 40.000 opere, affinché appunto la conoscenza venga aperta al pubblico con la completa inclusione. Quindi vi lascio con questa celebre frase di Franklin che racchiude il senso del nostro piano strategico dell'inclusione e della condivisione. Eva, questa è stata una presentazione fantastica in tempi brevissimi e onestamente dal mio punto di vista molto interessante. Spero di venire, avere modo di venire a trovarti un giorno, ti do del tuo, perché quello che hai detto all'inizio, traghettare il passato nel futuro mi sembra forse la cosa più importante che in Italia possiamo fare visto il patrimonio che abbiamo e che dobbiamo fare. Quindi forse su questa nota dobbiamo concludere. Mi dispiace tantissimo che non abbiamo avuto modo di discutere ulteriormente, ma spero che il pubblico abbia preso tanti stimoli e che sviluppi che possano portare altre conversazioni. E vi ringrazio tutti tantissimo. Grazie mille a tutti.